musica 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 le avevamo provate tutte ahahah ci restava solo la 48 race ahahahahah ahahah bene allora il nostro team è il tipo delle magliette azzure e Paolo Ninja personalmente sono venuto dalle fredde terre di Edimburgo mentre Tommaso è venuto direttamente da Bologna Matteo direttamente da Vicenza Ciao sono Tommaso e sono qui un Totoro per portare un'idea che ci frullava in testa da qualche mese ormai Matteo è un ingegnere atipico e si occupa di design io mi occupo della parte di front-end e dico si occupa della parte di back-end il nostro idea consisteva di un potentissimo sito per disegnare sopra lo schermo purtroppo a causa di un eccessivo numero di Red Bull il prodotto risultante è stato un po' diverso Diciamo la caffeina in qualunque forma non è mancata la location era bella ci siamo divertiti abbiamo mangiato tutti in compagnia Grazie comandotto Ace Ragazzi comandotto Ace è una figata i ragazzi che organizzano del team sono dei pazzi partecipate un brind ci arrivano Grazie comandotto Ace Grazie comandotto Ace